Nessun pericolo secondo il Governo per il potenziamento della Pescara Roma, ma solo uno spostamento, già noto da giorni, dello strumento per un finanziamento che comunque rimane assicurato. Lo dice a Ortona il Vice Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, per il quale l'opera. Avrà una copertura da parte del Governo, nonostante non sia potuto entrare nel PNRR, avrà le stesse identiche agevolazioni e inizierà sostanzialmente non solo la parte di progettuale, ma anche di potenziamento già nei prossimi mesi. Poi l'altro tema grosso che c'è l'Abruzzo oggi è il passaggio di consegno o meno sull'autostrada dei parchi, è un'autostrada che ha bisogno di forti manutenzioni e di revamping anche dal punto di vista tecnologico, ma deve continuare ad avere una possibilità di transitare o senza pedaggio o con un pedaggio moderato. Qualcosa si muove in effetti anche per il dossier autostrade, proprio il Ministero di Portapia starebbe nuovamente trattando con strada dei parchi un accordo per la chiusura del contenzioso con il riaffidamento della concessione al gruppo Toto. Rixi insieme al Governatore Marsiglio e alle altre autorità è intervenuto ai lavori dell'Assemblea promossa dalla piccola industria di Confindustria Abruzzo per parlare di nuove competenze, infrastrutture di collegamento, finanza per i progetti industriali con al centro la sostenibilità. Ci siamo accorti nel periodo post-pandemico quanto sia un importante sia la logistica che il tema energetico. Le imprese italiane, le imprese abruzzesi hanno la necessità di un potenziamento delle proprie infrastrutture, solo in questo modo riusciranno ancora di più ad aprirsi ai mercati globali, che significa essere più competitive, significa accrescere il proprio appeal, significa anche assumere più risorse per il nostro territorio. Questa è la grande sfida, la grande sfida che riguarderà le infrastrutture, le innovazioni e anche oggi la presenza del sistema bancario va proprio anche in quella direzione. In particolare qui nella provincia di Chieti abbiamo il secondo distretto dell'automotive italiano, abbiamo quindi un patrimonio di competenze che deve essere tutelato, e noi cerchiamo di farlo in vari modi, che possono essere per esempio quello di potenziare il sistema infrastrutturale per connettere questi distretti con il resto del mondo, ma che devono anche essere quello di andare in Europa e negoziare dei tempi più ragionevoli per la transizione ecologica, perché questa non si traduca sostanzialmente in deindustrializzazione.